gentili telespettatori buona giornata c'è il plauso di bassetti a draghi dice bravo draghi per la fine dello stato di emergenza è il momento della carota dopo il bastone ma senza sbracare dice bassetti non avevo dubbi su draghi dimostra di essere la persona giusta al posto giusto così dice il direttore della clinica malattie infettive del policlinico san martino di genova che commenta gli annunci di mario draghi a firenze sulla fine dello stato di emergenza il 31 di marzo e sulle altre misure che verranno prese beh in realtà la cancellazione dello stato di emergenza per gli italiani non comporta assolutamente nulla cosa vuol dire che draghi non può fare più i dpcm farà solo i decreti legge non ci sarà più il comitato tecnico scientifico ma vanno avanti il direttore il responsabile il vice vanno avanti come consulenti dello stato pertanto tutta questa esultanza bravo draghi per grandissimo a persona giusta al posto giusto realmente sta dicendo non prorogheremo più lo stato di emergenza che era già stato programma prorogato fuori tempo perché lo stato di emergenza doveva durare solo massimo due anni 12 mesi più 12 mesi è stato prorogato per altri due mesi quindi il bravo draghi realmente non lo vedo per le restrizioni poi tutto da vedere perché le restrizioni più importanti quali sono in questo momento sono il green pass da utilizzare per le attività per il lavoro e l'obbligo vaccinale dai 50 anni in su queste sono le vere restrizioni che abbia abolito abolito no che non prorogheranno lo stato di emergenza che già non lo potevano prorogare prima non mi sembra tutto questo poi c'è la promessa che dopo il 31 di marzo si comincerà a fare un programma di smantellamento delle restrizioni quindi la novità è che draghi di bocca sua ha detto cominceremo un rallentamento delle restrizioni ma non mi sembra una cosa per la quale avere tutta questa euforia e poi comunque il momento della carota dopo il bastone è una brutta definizione questa spesso bassetti parla un po in maniera un po troppo diciamo semplice ecco quindi questa dichiarazione qui è un po draghi poi aggiunge ascolta e questo è importante ma come bassetti fino a ieri hai detto che era il governo dei peggiori che non ne facevano uno giusto adesso è diventato la persona giusta al posto giusto è importante che ascolta il premio era bravi collaboratori e bravi ministri ma poi decide lui e ha ascoltato quello che molti di noi hanno detto beh sono misure che ci riportano alla normalità è il momento della carota dopo il bastone senza sbracare però ha deciso bene bravo draghi dice bassetti mi auguro aggiunge che con la fine dello stato di emergenza non finisca il ruolo del generale francesco paolo figliuolo invito il premier draghi a dare al generale un ruolo che vada oltre l'emergenza figliuolo ha gestito così bene in maniera attenta e precisa l'approvvigionamento la logistica dei vaccini e dei farmaci è stata la più bella sorpresa di questa pandemia ma che dici sarebbe un dispiacere che una persona di quel valore non servisse il paese ma guarda bassetti che è un militare sempre stato al servizio del paese era capo della logistica dell'esercito ha fatto un sacco di missioni internazionali conosciuto in tutto il mondo tutte quelle mostrine che tutte quelle mostrine che ha qua sono sono delle comunque delle partecipazioni a missioni a operazioni anche fuori dal paese quindi diciamo che il generale figliuolo non è che l'hanno pescato che era in pensione figliuolo rimane sempre un chiamiamolo impiegato statale ecco così in maniera molto semplicistica pertanto oggi bassetti è in vena di lodi al governo forse pensa che il governo ha ascoltato le sue parole chissà può anche essere e lui alla fine è il più grande influencer medico di questi tempi chiamiamolo così non non un un una virostar ma un infetti star visto che lui dice non sono un virologo io sono un infettivologo sono un medico quindi lui è un un infetti star bene a parte questo vediamo che abbiamo altre notizie vediamo sempre avevo altre notizie qua su su bassetti beh sì cosa dicono gli altri gli altri medici o gli altri esperti su questa fine dello stato di emergenza e beh vediamo che ad esempio sempre bassetti dice non avevo dubbi su draghi dimostra essere la persona giusta mentre galli dice sono assolutamente del parere che si debba riaprire tutto quello che si può aprire nel paese ma se questo comprende anche l'eliminazione del green pass seppur graduale non sono per nulla d'accordo non so quando potrà esserlo beh allora dici parli di aprire tutto ma l'aprire tutto vuol dire cancellare le restrizioni perché ormai tutto è aperto non è che c'è qualcosa di chiuso quindi sono d'accordo nell'aprire tutto è già tutto aperto però il green pass no è che è l'unica cosa che restrittiva della libertà sono convinto dice che non sia un messaggio corretto da dare in questo momento può essere utile solo a tenere insieme una traballante maggioranza di governo così dice massimo galli l'ex direttore di malattie infettive dell'ospedale sacco di milano per galli non c'è nessuna contraddizione tra il mantenimento del green pass e le aperture il mantenimento del green pass è una garanzia dice non conosco nel dettaglio le parole del premier ma francamente messaggi di sospensione del certificato verde per quanto graduali sono quasi una sollecitazione a fare in modo che i molti che devono fare la terza dose non la facciano e che non si proceda alla vaccinazione dei non vaccinati tra i più piccoli questo non va bene dice galli questo è proprio quello che vi dicevo io l'altro giorno che il governo non dice esattamente quando cancella il green pass perché se no come dice galli la gente poi diceva beh basta adesso non faccio più le vaccinazioni che erano programmate questa è la realtà in effetti è proprio così il governo lo dirà il giorno prima quando ha deciso proprio per cercare di vaccinare il più possibile fino all'ultimo giorno prima dell'eliminazione di questo green pass grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo al prossimo video arrivederci a tutti